Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi ho intenzione di fare un'analisi molto approfondita sul titolo NVIDIA. Parliamo di NVIDIA però solamente a livello tecnico, non parliamo di NVIDIA a livello fondamentale, ok? Di fondamentali. Per cui vedremo tanti grafici e ci faremo un'idea insieme. La prima cosa che voglio vedere insieme a voi è NVIDIA sul Forecaster, quindi voglio vedere la sua stagionalità. Allora, qui abbiamo una 5 anni, mettiamo 20. Praticamente si sovrappongono perfettamente. Vediamo, prendiamo questo periodo qui, che praticamente è un periodo di ritracciamento, ok? Che va più o meno dalla fine di febbraio fino quasi metà marzo. Veramente un periodo molto breve in cui immediamente NVIDIA va a ritracciare un pochino. Cosa che credo che sia fondamentale ai prezzi attuali, che adesso andiamo a vedere. Possiamo vedere che abbiamo una media giornaliera, intanto, ad esempio, che normalmente il 23 di febbraio, cioè oggi, chiude in maniera ribassista, short. Non voglio dirlo, ma anche oggi praticamente era partita a bomba, anche oggi guadagnava circa oltre il 2% e adesso sono le 17.10, mercati che hanno aperto alle 15.30, alle 17.10 si ritrova in negativo. Per cui è una statistica che mi pare sia veritiera. Poi possiamo vedere il settimanale. Siamo oggi a venerdì e vedete che negli ultimi 5 anni in maniera positiva chiude e mentre negli ultimi 20 anni una statistica maggiore in maniera short. Adesso andiamo a vedere, ecco qui, qui c'è il monthly. Però ovviamente la stagionalità che adesso ho preso, quella fase che ho preso in considerazione, va da, abbiamo visto, da fine febbraio fino agli inizi di, diciamo, metà marzo, vediamo un attimo, la prima settimana di marzo, che effettivamente poi mediamente chiudono in maniera rialzista, ok? Qui sotto abbiamo poi tutte le statistiche, però guardate, media del ritorno del 5.5%. Vediamo per lo short, adesso per quanto riguarda lo short, nel periodo, avete visto? Nel periodo che ho preso in considerazione, solo questo periodo qua. Vediamo anche se è in overbought o in oversold. Ovviamente potrebbe più essere in overbought piuttosto che in oversold. Lo era, lo è in overbought, in ipercomprato sarebbe. Wyckoff causes effect, vediamo che c'è una sorta qui di divergenza, se così la vogliamo chiamare. Inizia a calare un pochino l'interesse seguendo questo indicatore qui e siamo in ipercomprato. Poi abbiamo visto, l'ho visto questo nella live del martedì, ogni martedì Luca di Scacciati tiene un corso che riguarda il forecaster, vanno ad aggiungere nuovi strumenti, nuove funzionalità a questo potentissimo sito. Nell'ultima live, nell'ultimo webinar hanno proprio parlato di invidia, inserendo questo indicatore qui, il Banish Score. Ok, guardate il Banish Score che ti fa vedere se praticamente hanno manipolato un pochino i conti. E adesso con la trimestrale che è stata rilasciata proprio l'altro giorno, diciamo che ho dimenticato di dirti che se vuoi utilizzare il forecaster ed avere accesso ad uno sconto del 10%, puoi utilizzare il mio codice sconto MARICA10. Lo trovi anche in descrizione sotto questo video. In più, già che ci sono, ti chiedo anche di lasciare un like. Pare sia tornato tutto alla norma. Andate su info, vi spiega anche, vedete, che se è superiore a meno 1,78 è più probabile che ci sia stata una manipolazione. Da se è inferiore a meno 2,22 no. Ed effettivamente adesso è inferiore a meno 2,22. Comunque qui avete tutte le funzionalità, se volete approfondire questo strumento, il forecaster, seguite Luca di Scacciati che ogni martedì vi fa un corso gratuito. Basta iscrivervi al webinar per avere tutto. Adesso però passiamo ai grafici di NVIDIA. Vediamo, vediamo cosa c'è di interessante. Io faccio soprattutto analisi per l'intraday perché è quello di cui mi occupo. Però so, saprei anche fare analisi multiday. In questo caso, vedendo il grafico multiday, quindi un grafico giornaliero, è difficile fare delle valutazioni in questo momento su NVIDIA, se non che ha lasciato dei bei gap. E poi quello che sta facendo oggi potrebbe avere un significato. Sta facendo un mega rifiuto degli 800, sta chiudendo sotto gli 800, sta chiudendo. Mancano ancora un po' di ore alla chiusura della sessione, ma vedendo quello che sta facendo ora pare che voglia rifiutarli. Però, 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 noi abbiamo segnato proprio oggi in live sul market profile questa zona. Ok, la vedete questa bellissima value area, che è semplicemente della sessione precedente. E che trova, faceva trovare supporto a 780 dollari. È la zona che stiamo proprio sentendo, vedete la freccettina rossa? Stiamo sentendo questa zona proprio in questo momento. Quindi è una zona, magari, interessante per l'intraday per andare a comprare, eh. Bisogna vedere se ci sono altre confluenze. Questo l'abbiamo già visto in live, ma ve lo rimostro. E guardate che effettivamente qui c'è una confluenza con l'SD, la Standard Deviation P1 della VWAP, della sessione precedente. In realtà in questo momento siamo all'interno. E quindi i prezzi stanno giocando con il supporto a 780 dollari dato dal market profile. E tra l'altro qui vedete anche dal volume profile della sessione precedente, l'interesse che c'è stato. E con questo movimento abbiamo chiuso il gap della sessione precedente, vedete. Abbiamo preso il naked POC della sessione precedente. E adesso i prezzi, come stavo dicendo, si stanno incastrando tra questo livello, di 783,70, la Previous Daily Value Rehigh, Standard Deviation P1 della sessione precedente, e la Value Rehigh del market profile, ok? Di 780 dollari. I prezzi adesso sono incastrati qui. La cosa interessante magari per un intraday, se si è in ottica rialzista, come normalmente ci si andrebbe ad aspettare su un titolo con questo grafico, è che bisognerebbe aspettare i prezzi che tornino al di sopra dei 783,70 e riconfermino, ok? Riconfermino la forza. Noi utilizziamo questo strumento qui, che è il footprint, per vedere se c'è effettivamente magari un assorbimento dei venditori per poi portare i prezzi dove vogliamo noi, ovvero al rialzo. Quindi questa è una buona zona dove andare a monitorare invidia per ricercare opportunità. Ma detto questo, vogliamo vedere se ci sono zone invece interessanti, magari ad esempio, non so, per uno swing. Anche andando indietro, io vedo che comunque questa è una gran bella zona dove andare a comprare, no? Anche a livello un po' di price action e tutto, ma... E vedete che effettivamente questa è una zona che alla fine sta funzionando. I prezzi hanno sentito per bene, i 780. L'abbiamo detto anche in live oggi, eh? Abbiamo detto quanti prezzi erano da queste parti nel pre-market, che questa era una bella zona dove andare a comprare. Effettivamente adesso stanno dando una bella reazione. Per quanto riguarda questo titolo, comunque un ritracciamento ci starebbe bene. È difficile dire quando questo accadrà. È difficile anche stabilire se accadrà e quando accadrà, per quanto tempo ritraccerà e quanto, ok? A giudicare da quello che posso vedere qui è quello che perlomeno sarebbe fisiologico, è la copertura di questo gap qui, ok? Quindi un ritracciamento che vada a colmare il gap per poi magari proseguire la sua scalata del successo. E ecco, questo è quanto riguarda media. Magari un ritracciamento in area a 700 dollari sarebbe più che normale, ok? Niente di eclatante, nonostante i prezzi debbano scendere del 12% all'incita, sarebbe uno storno fisiologico, ok? Questo raggiungimento di questa zona qui, anche magari leggermente sotto i 700, per poi continuare al rialzo. Questo non è detto poi che accada, perché magari adesso passiamo qualche giorno da queste parti prima di un ritracciamento che non vada neanche a raggiungere questi livelli. Tutto è possibile. Siccome non abbiamo materiale, ok? Non abbiamo adesso grande materiale per poter dire quanti prezzi ritracceranno e se lo faranno, dove arriveranno, ok? L'unica cosa che posso dire è che se avverrà, per me questa è una buona zona. Questa è una buona zona dove andare a rimonitorare il titolo per magari effettuare nuovi acquisti. Quindi il trend continua ad essere rialzista, è inutile parlare di bolla, è inutile dire... Si può dire qualsiasi cosa si vuole, ma questo è un gran titolo e con un grafico del genere bisogna attendere magari dei ritracciamenti per riposizionarsi long. L'unica cosa che mi farebbe cambiare idea è la rottura di questo minimo qui. Se dovessimo scendere e chiudere al di sotto di questi minimi allora lì si potrebbe avere il famoso cambio strutturale per una continuazione ribassista, ok? Ma fino a che questo minimo rimane intatto abbiamo un ritracciamento solamente per colmare questo gap al raggiungimento di questa area si può andare a ricercare poi dei posizionamenti rialzisti. Questi non sono dei consigli finanziari sono semplicemente le mie idee, ok? E ecco, già i prezzi stanno salendo per bene. Adesso sarebbe interessante i prezzi che ritornino qui rifiutino questa zona, quella di 783,70 e in quel caso ci si può posizionare long per uno in ottica intraday, ok? Io lo faccio sempre magari seguendo la footprint qui ho aggregato 7 tick perché altrimenti rimane veramente diventa uno scolapasta la footprint di invidia piena di buchi quindi ho dovuto aggregare 7 tick oggi perché è overcrowded questo titolo e scambia velocissimo e la footprint non è bella piena. Poi il primo segnale che è arrivato sotto lo vedete questo bel B shape che c'è delta su ogni price level fortemente negativo e poi delta bar che comunque chiude positivo e range bar anche quindi è già un ottimo segnale per un ipotetico ingresso long. Non ho operato, questa era solamente un'analisi fatta con voi e niente, secondo me invidia non va venduta non va venduta fino a quando non ci sono veramente i presupposti per farlo non va venduta adesso solamente perché ha prezzi alti nessuno può dire invidia adesso si ha a prezzi alti bisogna avere magari dei segnali, ok? che ci indicano che forse è arrivato il momento di vendere, ok? è sbagliato cercare di vendere ai massimi, ok? perché è impossibile beccare i massimi per vendere detto questo per quanto mi riguarda come abbiamo già visto io aspetterò se succederà un cambio strutturale non è detto che avvenga io l'ideale adesso in questo momento l'ideale è quello di semplicemente di trovare di attendere dei tracciamenti per dei riposizionamenti dei riposizionamenti long quindi ragazzi ecco qui la zona di 780 ha funzionato egregiamente sta per raggiungere gli 800 adesso gli 800 bisognerà vedere come come si comporteranno e comunque sono questa zona qui di rotazione dei prezzi e potrebbero di nuovo farsi sentire sarà interessante vedere come questa sessione chiuderà al di sopra degli 800 o al di sotto quindi direi che continueremo a monitorare questo titolo riporterò delle analisi di questo genere sempre su un video quindi riporterò degli aggiornamenti e per ora è tutto ci vediamo nel prossimo video e namastè guardate il segnale guardate il v-shape qui sotto cosa ha creato